eccoci qua finalmente l'album numero 11 altro album bellissimo di quest'estate pieno di cose belle e di regali quindi approfittiamo vi spiegano un po' come funziona tutto l'album quindi se vi piace il video mettete un like e iscrivetevi al mio canale allora vediamo un po' quest'album 11 cosa ci riserva per prima cosa c'è questa bellissima offerta sul contorno occhi e la crema notte se si acquista un contorno occhi o una crema notte si avrà il metamorfose da mini sites in regalo quindi veramente bello mi raccomando di usare sempre anche la notte perché la sera che la pelle si rigenera quindi è importantissimo curare il contorno occhi che è più delicato e il viso la notte prende molto molto di più la crema perché si rigenera e quindi assorbe meglio poi vediamo un'altra bellissima offerta di questo album è data sempre molto dai contorni occhi questo è proprio specifico dell'Hidra Vegetal e si avranno questi mini sites da provare di fondotinta questo qui vediamo che è lo zero defu adattissimo per pelli sensibili è un po' più da idratare quindi veramente c'è una bellissima combo poi questi mini sites sono anche insieme alla Purment quindi acquistando un prodotto si avrà in omaggio sempre il fondotinta adatto questo qui invece è il super matte perché è un fondotinta proprio per le pelli grasse quindi avere un'ottima detersione e poi applicare il fondotinta giusto per la pelle e vediamo che hanno messo lo zero defu anche in combo con la Puralg che veramente è ottima, molto fresca per chi ha pelle mista grassa quindi è ottimo, i pezzi poi, che dire veramente quest'estate l'azienda ha riservato per i prezzi e poi ci sono anche per le pelli delicate, questa è la camomilla sempre la mini sites in regalo e mi raccomando provate questo solido, questo detergente solido perché piantiamo un albero comprando questo e poi si avrà comunque sempre in omaggio la mini sites da provare della Zero Defu altra bellissima offerta anche qui questo è un toccasano per gli occhi gonfi e stanchi veramente vi consiglio questo è il contorno occhi della Pouple veramente veramente io lo uso ed è veramente bellissimo lo conservo in frigo quindi perché dirvi e poi c'è quest'altra bellissima offerta della Pifasico, della Pouple bellissimo, quindi un bellissimo prezzo 2 a 9,95 quindi sempre la cura degli occhi deve essere sempre un prodotto delicato poi vediamo che anche sui mascara hanno fatto questa offerta quindi prendendo un mascara si ha anche la mini sites questo è sempre un zero defu poi la novità bellissima allora qui vi è un po' spiegato che cos'è l'armocromia e come capire che estate sia che a che cosa apparteniamo come è il viso allora vediamo che ci sono queste quattro stagioni che poi non sono come le stagioni normali è tutto uno studio sul viso e sulla pelle e sui colori di ognuno quindi da vedere molto c'è anche lo schemino e qui hanno fatto dei set bellissimi veramente veramente bellissimi abbiamo questa è la primavera e quindi sono le donne che hanno questi colori pelle chiara, colori chiari di capelli, occhi quindi molto molto belli hanno fatto un fucsia e un pesca con questi ombretti bellissimi e hanno fatto in combo questi set labbra molto molto belli io per esempio uso molto adesso ho proprio questo camelia molto 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 bello poi questo è l'estate bellissimo l'estate questi colori poi che dire io ho messo un po' di questi colori adoro hanno fatto un po' sull'azzurro e su questo viola molto molto bello e c'è sempre il combo il rossetto con la matita labbra poi vediamo questi invece sono colori un po' più scuri perché ha una pelle un po' livassa e colori scuri di capelli veramente molto bello c'è il mattone come colori e il marrone molto molto bello e questo è l'autunno poi vediamo l'inverno è il classico colore delle donne mediterranee un po' la pelle un po' più chiara però e questi colori scuri di occhi e capelli quindi hanno usato un po' questi blu col bianco e poi questo nero sempre col bianco da fare anche uno smokey eyes molto molto bello e hanno usato a mettere un po' questi colori più da estate quindi queste sono bellissime offerte veramente veramente belle poi vediamo che abbiamo un'altra bellissima offerta qui da far provare questi prodotti Alcarity quindi comprando un set di questi prodotti corpo si avrà il latte corpo Alcarity molto molto bello che è da provare e invece con il gommage con le creme anticellulite e con anche il gel gambe si avranno il bagno doccia sempre in mini size poi un'altra bellissima offerta sempre con questo caldo che soffriamo tantissimo diciamo delle persone che stanno molto in piedi soffrono tra le gambe e i piedi e c'è questa combo a 12,95 il scrub piedi e il gel rinfrescanti piedi che anche io sto usando tantissimo devo dire la verità perché la sera torno sempre molto stanca questo caldo poi vediamo ci sono il nell'olio Monoi a 14,95 e il profumo Monoi sta a 12,95 e poi ci sono comunque sempre tutti i prodotti al Monoi e tutti i solari latte solare e un po' di raffreddore e poi ritornano questi profumi bellissimi veramente io adoro l'Evidence poi Bloom in Love che è appena uscito io ne sono innamorata qui ci sono due c'è il cofanetto con il rossetto eppure una mini salsa da portare in borsetta con quello grande bellissimo e il Naturelle è tornato in offerta per chi ama questo profumo ne ho già fatto scorta quindi sicuramente bellissimo un'altra stupenda novità che hanno fatto per gli uomini bellissimi hanno messo questi prezzi hanno fatto questo set sia del balsamo che del trattamento viso avranno la Mini Sights in omaggio quindi da far provare anche a qualcun altro qualche altro amico e quindi e poi c'è il la schiuma da barba doppio a 9,95 quindi due pezzi a 9,95 bellissima offerta è altro bellissimo regalo che fa l'azienda i nostri maschietti è il profumo abbinato al gel doccia e qui questo si avrà in regalo e vi dico soltanto che questo costa 12,95 solo questo quindi approfittate di questa offerta per questi maschietti i nostri maschietti perché veramente è bellissimo poi altra novità altra cosa bella che ha messo l'azienda è comprando i prodotti capelli si avranno nei Mini Sights se si aggiungerà il codice si avrà chi vorrà il botanico l'antica duta e il di dare il shampoo riparatore in regalo come Mini Sights poi vediamo vediamo un'altra cosetta che questo è il must della ditta della nostra azienda sono i i latte corpo questi qua piccolini da 2 da 9,95 in super offerta abbinabilissimi a quest'altra super offerta 2,695 dei bagno doccia quindi mi raccomando usate sempre il bagno doccia e il latte corpo perché il profumo dura di più la pelle assorbe veramente molto molto bene questi profumi sono sono per tutti ognuno di noi ha lo suo profumo preferito molti clienti miei amano la vaniglia e anche l'argan e rosa quindi se le fanno sempre scorta veramente ci sono tanti tanti prodotti ed è bellissimo quest'album mi piace tantissimo perché ha questi questi set make up veramente da da provare quindi vi raccomando scegliete sempre quello che vi piace e che vi fa stare bene un bacio a tutti e al prossimo video sul mio canale un bacio a tutti da rosa ciao